Buongiorno, sono Andrea Maccari della cooperativa sociale Il Mantello di Carpi. La nostra cooperativa è nata alla fine del 98 ed è una cooperativa mista. I settori sono il B e l'A. Il settore B è caratterizzato dall'inserimento lavorativo di persone cosiddette svantaggiate, persone segnalate dai servizi sociosanitari che attraverso il lavoro mirano a reintegrarsi nella società. In questo settore noi svolgiamo prevalentemente servizi ambientali, quindi raccolta rifiuti, gestione di stazioni ecologiche, servizi di spazzamenti, traslochi, sgomberi e anche servizi di imballaggio per conto terzi. Gestiamo anche il progetto Centro in Bici per conto del Comune di Carpi. Per quanto riguarda invece i servizi alla persona, quindi il settore A, abbiamo delle attività di alfabetizzazione. Tra l'altro siamo all'interno del progetto Aerostraniero che vede alcune organizzazioni di Carpi occuparsi di corsi di alfabetizzazione per adulti stranieri all'interno della Casa del Volontariato e gestiamo altri corsi di alfabetizzazione per minori nelle scuole. Ci siamo a interventi di mediazione linguistica e culturale. Abbiamo in carico anche alcuni sportelli stranieri ed altre attività legate al disagio adulto. A presto. Grazie. Grazie.